tamietti si incarica della rimessa con le mani va a lungo direttamente in aria c'è uno schema il numero 27 può andare al tiro lascia il 17 palo incredibile occasione un uomo in aria e due sul limite pronti ad entrare c'è uno schema cardillo il tiro reti 1 a 0 dillo con il numero 76 va da stefoni con il sinistro torna in mezzo e ricomincia giungla con di massimo di massimo c'è il tiro libero lo prova parata del portiere calcio d'angolo si incarica con il destro del calcio d'angolo chiama lo schema stefoni va in mezzo rimpallata ma c'è ancora palla buona per il difensore il tiro solo calcio d'angolo per il giungla destra palla al piede perde palla il difensore e allora c'è sardillo cardillo in aria buona stefoni rete e fa 2 a 0 per il giungla grande azione riconquista palla messa laterale per cardillo di nuovo per federici stefoni cardillo tutto di prima ma perdono palla allora warriors con di lallo l'attaccante col sinistro prova il tiro che sfila alla sinistra del portiere grande occasione allora warriors riparte è un 3 contro 3 warriors che rallentano l'azione e perdono anche palla allora ghioka ghioka può andare lui è in mezzo a 3 propone il tiro ghioka al tiro alto grande occasione per giungla federici che batte la rimessa con le mani federici va a lungo per troppo lunga per tutti ma attenzione recupero rete gol di savarese per il 3 a 0 giungla tamietti tamietti palla persa giungla prova il tiro rete 4 a 0 per il giungla partita a senso unico per stefoni che insieme a savarese può provare l'attacco prova a servirlo in qualche modo la palla arriva stefoni cambia lato per ghioka che stoppa bene con il destro ghioka palla in mezzo sfila nessuno ci arriva l'occasione per il giungla cambia lato tamiani tamiani palla in mezzo intercettata dalla difesa e allora ricomincia il giungla ma ancora c'è la pressione dei warriors il tiro la parata del portiere tamietti con le mani va a lungo per l'attaccante che fa la sponda ma la palla viene rinviata lunga e allora numero 11 uno contro uno entra in aria il tiro parata del portiere grande cardillo si occupa della battuta vediamo se cercherà un compagno in avanti o cercherà di tenere palla va subito da savarese che vede in mezzo il tiro la palla che sfila occasione per il giungla due uomini in barriera con il sinistro parte il tiro alto grande occasione per i warriors palla ad uscire bassa liberi tutti occasione per i warriors ancora i warriors grande numero sulla fascia destra si accentrano c'è bisogno di uno scarico porta ancora palla il difensore prova il tiro traversa incredibile giungla sempre con federici si abbassa chioka che può ricevere e allora può impostare l'azione lui scatto di celli che non viene visto ancora celli può andare lui davanti a portiere celli il tiro la parata grande parata di santucci occasione per il giungla calcio d'angolo per il giungla palla corta entra in aria palla dietro crete ed è 5 a 0 per il giungla ghioka movimento in aria va ghioka palla lunga colpo di testa parata del portiere ma c'è ancora palla buona incredibile occasione totamietti alimenta l'azione ma perde palla cardillo con il colpo di tacco di nuovo tamietti ghioka prova il passaggio filtrante per stefoni stefoni va in aria dribbling stefoni il tiro la parata ma c'è incredibilmente l'errore ora preme il giungla ancora non sazio finisce qui 5 a 0 per il giungla grande prestazione